e poi uno di questi è diventato un pezzo proprio evergreen si dice lui ha Andrea Nerone qui con me la figlia cantante Antuena Nerone per un pezzo internazionale raccolto qui a Mondorone e poi uno di questi è diventato un pezzo internazionale raccolto qui a Mondorone e poi uno di questi è diventato un pezzo internazionale raccolto qui a Mondorone E poi uno di questi è diventato un pezzo internazionale raccolto qui a Mondorone Nubizza che non lagliamenti da direttare Nubaz un copalo come noi cantini Nubaz un copalo come noi cantini Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Abbiamo visto un video di questa bellissima ragazza che ha cantato questo bellissimo canto laborino della terra di Mondragone e alla fine appare un uomo che con la coccia pelata è perché parliamo di Andrea Nerone che è il papà di Antonio Nerone e parliamo di una memoria storica importante dell'identità laborina, dell'identità di Mondragone, dell'identità aurunca pura si può dire che ci ha regalato cultura fino ai giorni nostri ma non soltanto con la musica ma partendo prima con la ricerca ed è di fondamentale importanza. Andrea come stai? Tutto bene? Sì, sì, tutto bene. Hai visto questo video di tua figlia quando l'hai ripresi al concerto di Carlo con questo testo che poi a Pignatare dicono che roba loro la musica popolare è così cioè è una cultura che si trasmette oralmente per cui gli stessi testi che trovi a Mondragone io li ho trovati pari pari in Puglia, li ho trovati in altre regioni, in Calabria e quindi evidentemente la popolazione che si spostava spostava pure la propria cultura e quindi c'era un certo scambio culturale con altri popoli e quindi a questo punto giustamente da buon ricercatore ha detto non ha importanza se appartiene a Pignatare a Mondragone ma veniva diffuso, non è questo il problema Assolutamente, la musica era funzionale per le azioni quotidiane della vita quindi era funzionale per la festa, era funzionale per il lavoro, era funzionale per lo svago Ma d'altronde poi nella civiltà, nella cultura popolare non esisteva il primato, l'importante è che veniva condiviso la civiltà dell'accoglienza, della condivisione che appartiene al nostro, che si chiama civiltà napolitana, civiltà di un regno Ma se tu ci fai caso, ci sono ancora a Mondragone alcuni modi di dire che sono pari pari e li ritroviamo nelle ventanelle del 5% Ti faccio una premessa Andrei, se vuoi parlare a Mondragonese e qualche cosa per noi è un spettacolo perché lo tu sai, ci segui e se ho parlato che purtroppo vanno a sparire quindi se hai voglia di dire qualcosa in Mondragonese per noi ci rendi felice, tranquillo Sì, sì, no, ma si vuoi parlare di qualcosa di Mondragonese e di una canzone nei canti No, prima di parlare a questo punto, però una cosa è certa di questo pezzo che è bellissimo che non si sa se questo è un pezzo che ha contaminato la musica occulta del San Carlo o viceversa questa è l'unica cosa... No, io penso che è la musica popolare che nel 500 ha contaminato la musica occulta quindi i musicisti di corte, i musicisti diciamo dell'area più colta prendevano a spunto, in modo di dire, prendevano a spunto intere filastrocche, diciamo, intere canzoni del popolo e le offriva... Ma non soltanto nel 500 perché fino proprio all'unità d'Italia pure lo stesso donizetto Il processo donizetto è sempre stata la continuazione continua Certo, certo, però secondo me il clou delle missioni della musica popolare, della cultura popolare nella musica occulta si ha proprio nel 400-500 fino al 600-700 Con l'avvento delle Villanelle, delle Moresche... D'altra parte il nome stesso Villanelle presuppone che vengono da Villano Villano è il nome del contadino Ah, è vero, sì E poi d'altra parte se ci fai caso nelle Villanelle si fa molto spesso a quello che è il mondo rurale, il mondo contadino si parla di argomenti che sono proprio di contadini Non so, un esempio può essere... Ho visto una marotta fare una danza Una Villanelle che tu sicuramente conosci Ebbè, la marotta è un animale che non credo che sia molto, diciamo, conosciuto nel mondo corto Ho capito Se non dai culturi, chiaramente E quindi, sì, effettivamente c'era molto più umiltà e soprattutto, per esempio, Moresche venivano dal termine di quelli che venivano dal Marocco che venivano a fare i servitori a Napoli A Montregone si dice ancora Megliere che Bert Filava per dire un'azione, diciamo, non proprio bella fatta da questa donna, da una donna, insomma e Bert Filava la ritroviamo ancora nelle Villanelle E la ritroviamo nelle pezze di Rino Gaetano che da Crotone lo diceva Bert Filava, Filavala là Vedi come tutto si collega Io sai che io uso termini che a me piacciono io sud e meridione non lo uso per me esiste un regno la patria napolitana eravamo qui a caldo, a freddo un pezzo vedo questa chitarra battente che nessuno ha mai fatto vedere ma c'hai un pezzo da tarci così a volo 20 secondi che ti ricorda questo così ti faccio un pezzo di una tarantella ma la tarantella ti ho mandato vabbè ce lo dici dopo facci volevo fare non te la faccio tutta perché volevo fare una premessa nella cultura popolare il concetto di bello è sempre legato al concetto di potenza di soldi quindi questa tarantella è quando la bella io vabbò mare per bella si indente figlia di signore ah scusami quindi da distinguere dai villani sì quindi c'è la distensione tra villani e bella quando la bella e il mare c'è un buon sabià manatee al cusumà sì la bomba n'ha salvat manatee al cusumà sì la bomba n'ha salvat ruppat tre manatee guattriche pomluì trelli una tre percuna tre colonna d'ora trelli una tre percuna tre colonna d'ora vuoi marina vabbè porta la chiudà ma vabbè perda la mia figlia gà di mila qui e questo si ripete la storia la bella è rapita dai turchi i turchi chiedono il riscatto allora la bella intercede verso il papà il papà lo rifiude il riscatto la mamma rifiude il riscatto la sorella rifiude il riscatto solo il fidanzato poi accetta il riscatto questo è un episodio della cosa dei turchi il rapimento della principessa che riguarda un fondi che sta un po' più spostuto qui a fondi c'è proprio una storia importante di questa ma noi eravamo dei turchi eravamo in basi dai turchi e quindi questa è proprio stavano in enormi scorrerie qui nel 400-500 tanti avverro c'è stava una torre proprio a mare adesso distrutta una torre proprio a guarda e le famose 400 torri del regno che facevano tutti il regno si era una di quelle ma la parola montragone da che cosa deriva? montis dragonis monte del dragone monte del dragone adesso le versioni sono due una leggendaria che è un dragone che viveva sotto in una grotta della montagna e il cui alito era pestifero e ammazzava chiunque si avvicinava al luogo e l'altro invece da un certo dragone un principe a lungo parto che forse più quello si ah quindi non è giusto mentre mi guardate arrivavo fino a qua bellissimo questo pezzo soprattutto questa chitarra è una cosa meravigliosa ma quando ha detto questa chitarra no non non è eccessivamente vecchia questo qui negli anni sessanta sessantaquattro sessantacinque la comprai da De Bonis è una De Bonis eh se la Quattro Stavio si tratta da più di cinquante anni fa eh sì è una pazienza sì ma come e dove nasce Antiglia di Tenerone? io nasco a Montagone e quando nasce? nel 51 complimenti però ti porti benissimo in situazione grazie sono abbastanza vecchio e comunque nasco nel 51 però non sono vissuto sempre a Montagone alle dalle di 10 anni sono stato fuori sono ritornato alle dalle di 16 anni a Montagone poi sono ritornato un'altra volta a 17 19 anni sono andato all'università a Firenze cosa hai studiato? architettura ah sei architetto adesso in pensione poi sono ritornato qui a Montagone mi sono sposato e come ti trovi? come ti trovi con la musica popolare? a fare ricerche? cioè tu nasci come ricercatore prima? o come musicante? diciamo che sulla scia di Desimoni di Eugenio quindi fine anni 60 NCCP sì 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 negli anni 60 sono rimasto entusiasta di questo modo di approcciarsi ma tu già suonavi? popolare sono avi per diletto? sì per diletto sono rimasto entusiasta di questo modo di riscoprire la cultura popolare e iniziare a fare delle piccole ricerche a Montagone e hai trovato un tesoro? ho trovato un tesoro tesoro che oramai nessuno più conosce se non ecco i cultori della musica popolare perché sono stati diffusi da vari personaggi hai cominciato da te stesso? hai iniziato da me stesso? no ma io poi li ho trasmesso anche alla nuova compagnia sì sì come o in Ennanè e sul disco c'è anche i miei nomi Concetta Barra l'ultimo disco di Concetta Barra quasi tutte le canzoni sono canti di Montagone ah e qual è questo disco? adesso non mi ricordo di preciso Schiattata e Genda e Genda Schiattata? Genda e Genda ah sì 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 giusto quasi tutte le canzoni sono di Montagone e tu come facevi? cioè tu praticamente andavi in giro per le campagne e trovavi queste congine cioè queste congine che ancora cantavano e suonavano e lavoravano nei campi oppure sì ce n'erano ancora c'ho della registrazione infatti fatta anche ancora nei campi e c'erano molti 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 canti dei canti diciamo relative al lavoro dei campi come ad esempio questa qua e su se toine namiche guarnugliare e su se toine namiche guarnugliare e la Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa è lunga, questa canzone prosegue ancora e alla fine dice il pezzettino di mattina che si rapporta ai salmi religiosi. E per cui c'era lei... Che epoca è questa? Ma nella musica popolare è difficile dare... E si viene tramandato. No, sai perché ti ho fatto... Perché essendo la tradizione soprattutto orale non puoi stabilire un'epoca precisa. Perché sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché fino all'avvento, fino a quando c'era il regno di Napoli, si usava il calendario classico, quello italiano, fino alla fine dell'Ottocento. Mentre l'Italia già tutta quanta l'aveva trasformata in quello che fece Napoleone, quello che oggi abbiamo, nella musica popolare, nel nostro regno, fino alla fine dell'Ottocento, divenne Italia, ma poi ancora per un po' si adottò quello il calendario, la giornata iniziava al tramonto. Quindi non c'era la concezione dell'ora legale all'ora solare, era legata alle stagioni. La giornata iniziava al tramonto. Infatti tu ci fai caso, molte volte, le sveglie, gli orologi di campanile di una volta erano con quell'aste e quindi praticamente non c'era bisogno dell'ora legale all'ora solare perché il tramonto, l'inizio della giornata cambiava in funzione delle stagioni. Quindi l'inizio della giornata di novembre era diverso da quella di giugno. Certo, certo. Non c'era bisogno che c'era l'imposizione all'alto per fare l'ora legale. Esatto. E quindi l'orologio biologico di ogni essere umano andava con il macrocosmo e con la natura. Sì, ma diciamo che... Ecco, te ho fatto questa domanda, capite? Nella vita quotidiana dei contadini dell'epoca non tutti avevano l'orologio italiano. Ma infatti andavano con i... Andavano con i... Ma non esisteva nemmeno. Andavano con nessun delle campane. Oh, ma non esisteva l'orologio. Quindi c'era la mattina, il vespro, la sesta, la terza, la nona. Che seguiva la stagione. No, vabbè, diciamo seguiva il calendario ecclesiastico. Le laudi. Sì, però cambiamo. Per esempio i vespri di novembre erano diversi dai vespri di giugno. Certo, certo. Perché... L'unica... Infatti c'era la clessitra per fare il tempo. Ma non c'era l'orologio prima. No, no. E come ti ho fatto questa domanda. Ma questa è la lingua mondragonese. Sì, sì. La mondragonese. Tu sai che sono di sessa. Ma per esempio io ho detto... È incredibile come... Sessa, mondragone, cellula, e tre lingue diverse. Sì, diciamo che fino all'ottocento... No, diciamo anche pure dopo, pure... Mondragone è stata un'isola quasi felice. Nel senso che mentre sessa usufruiva dell'Appia per spostarsi a Napoli e Roma, Mondragone era difficilissimo lo spostamento. Perché per attraversare... Le paludi. C'erano le paludi a nord e a sud. Ma per attraversare... Ci si è spostata via montagna. Montagna a montagna. Eh, bisogna fare... Quindi Falciano, sopra, arrivava via Pitimonde. Per uspedare il Volturno ci stava la chiatta. Ci stava... La scafa. La famosa scafa. La scafa di Castieri. Che ti trasportava da una riva all'altra. Per cui il dialetto mondragonese fino agli anni 60... Non è stato contaminato. Non è stato contaminato. Dagli anni 60 poi con l'appello della tradizione e di tutti i resti... Vabbè, questa è stata la trasformazione di tutto. Sì. Però è spettacolare. Comunque è diversa tra... La linea d'aria tra Mondragone e Cellule e sessa saranno... 5 linea d'aria, 6, 6 e 6, eh. Eppure è diversa proprio. Se ci fai caso, sessa ha un dialetto pure negli articoli più vicino al napoletano. Osco. Come diceva a Castinese, chiuso di Castieri. Ah, dalla sessa fammi da Castinese. Molto più osco. Voi diverso proprio. Sessa era... Si avvicina più al napoletano. L'osco. Noi invece era completamente diverso. Ma anche nell'articolo. A noi si avvicina al napoletano del 500, del 600. Sì, ho fatto, ho sentito... L'u, l'u... Eh, che si usava... L'articolo... E poi le immagini francesi... Ah, vabbè. I figli... I figli... Beglie, non bello. Sì, sì, quello non bello. Ma quando si beglie, che si figlie... Vabbè, questa fu la stessa, fu una molto... E questo è un retaggio... Ma poi, tra l'altro, cellula è pur diverso. Sia da sessa che da... Incredibile, guarda. Poi non so bene come parlano a Falciano, parlano però è completamente diverso. Allora, Andrea, dimmi... Cioè, tu cominci a fare queste... Tu cominci prima come musicante o cominci a fare le ricerche prima? No, no, feci le ricerche. Andavi in giro per le campagne e facevi? Come trascrivevi? Le scrivevi o le registravi? No, le registravo. Le registravo. E questi condadini erano disposti a far sì? Sì, sì, sì. Sì, sì, no. La gente ha bisogno di comunicazione. E quindi... Qua parla l'antropologo, eh? Qui... Non è che... Ecco, quando io andavo... Dalle persone erano ben contenti di potermi essere utili, di... Diciamo, aiutarmi in questo... Ma a questo punto... E' molto della mia ricerca. Qualcuno... Devi pensare... Poi, guarda, la cultura contadina... Adesso, forse... Esco un po' fuori campo... Ma la cultura contadina... Si esprime per ottave. Queste ottave... Cosa vuol? Sono degli indecasillabi... Composti in otto versi... E o a rima abbaciato o a rima alternato. Ah. Ti ne dico una... Si. Così... Campanarielli o mio quanto è bello. Sta tutto intorniato dopo lui. Campanarielli, Campanarello... E' una zona di... Di Mondragone. Una... La masseria di Tarcagnote. Lo signorino mostre il più bello. Cinque figli e maschi lo potremmo fare. Un prelto è nato cardinale. Un pesco è nato barone. Lo derretto sarebbe per me. Lo begliassi io per il primo amore. Quindi c'è sempre questo... Bellissimo. ...liferimento al... Al mondo contadino. Come vedi. E... Il mondo contadino è un mondo di... Di scambi soprattutto. Almeno lo è stato fino agli anni 60-70. Di scambi... Umani soprattutto. Cioè le famiglie non erano isolate, chiusi in se stessa. Ma si davano aiuto reciproco per il lavoro dei campi e per qualsiasi altro... Facci il ruolo porco, come questo per io. Anche. Ma c'erano ancora le aie, no? Adesso invece viviamo l'epoca dei cancelli elettronici dove ognuno si chiude a casa sua. Adesso non ci si conosce neanche solo. Lo stesso pianerotto. Lo stesso congadino. Lo stesso congadino si è imborghesito. Eh sì. E quindi tu trovavi questa ricerca e poi che facevi? Registravi e poi le musicavi... No, 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 no. Le trasformavi? No, no, no. Stavano compiendo quella che le cantava. Ad esempio per il lavoro dei campi si usava una certa melodia. Per la ninna nanna si usava un'altra melodia. Per, non so, le tarantelle. Le tarantelle hanno un mondo a parte perché non sono più endecasillabi. Ma le tamburiate sono fatte tutte su endecasillabi che vengono messe assieme. Eh, ma Mondracone è terra di... Sembra la stessa finisce, inizia la... È terra di ballarella. Mondracone che ci sta? No, ci sta la tamburiata. Ah, qui comincia la tamburiata a Mondracone. Una è questa. Allora, qui comincia la tamburiata a Mondracone. Allora, qui comincia la tamburiata a Mondracone. Non, ci sta la tamburiata a Mondracone. Non, ci sta la tamburiata a Mondracone. Non, ci sta la tamburiata a Mondracone. Ruggia e chiava truenda di Matarazza Ruggia e chiava truenda di Matarazza Ruggia e chiava truenda di Matarazza Come vedi ci stanno delle ottave che vengono inserite in questo canto e serviva per il ballo Però ad esempio ci sta un altro modo poi per darsi il tempo nel lavoro dei campi ad esempio quando vedeva con gli amuri dei fagioli C'era il tamburo però No il tempo se lo davano con gli avuglie si chiama E quindi a modo di tamburo Eh si si batteva il tempo e proprio per darsi questo tempo una è questa E vatta 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 vattarella Me l'hanno ritte e me l'hanno spiegate Da non passare chiudati stiloci Ma io ci passa come hanno rannate Perché la vita mia la piazza vuol Porta per porta una persona armata Ogni finestra una lampa di fuoco Ma fa dispietta da chi mi avvisate Padrona ma ci ha fatto i chi stiloci E continuava Bellissima questa cosa Eccezionale comunque quello che mi hai detto Perché praticamente è il vostro Un dragone quindi molto più legato alla questione del Castel Volturno Mentre invece la confinante sessa e la finisce con le ballarelle Proprio dell'alta terra di lavoro Infatti l'alta terra di lavoro finisce a sessa Noi ballarelle non ne abbiamo Qua inizia il cuore della terra di lavoro Guarda caso vedi pure la musica fa da confine L'alta terra di lavoro finisce a sessa E quindi c'è la terra di ballarelle Mentre qui inizia il cuore della terra di lavoro Quindi è quella di Ammurriate Quindi il mon dragone è terra di Ammurriate Ammurriate e Tarantella E Tarantella la troviamo ovunque Quindi non è questo Poi di quello scambio di cui ti parlavo prima della cultura Ad esempio è quella lì Della Celentana Ma la voglia bella Ma la voglia bella Ma la voglia bella Ma la voglia bella Na Celentana Non ma non portica Non bella niente Non voglio portica Non bella niente In genere Questa non veniva cantata qua però Sì sì questa qui è di Montragone È di Montragone? Sì Cioè la Celentana è di Montragone? È diciamo la versione che io ho raccolto a Montragone È incredibile Quindi scambio di Montragone Ma questa è proprio comunicazione Scambio di comunicazione tra te Un'altra canzone Che ad esempio si trova anche in Sicilia In Sicilia questa canzone viene chiamata Con il più Quindi tu condicavi queste ricerche andavi in giro Perché le conservavi tutte nelle registrazioni Sì ma non le mettevi su carta su penna Come facendo? Eh no no Ce l'ho tutte trascritte Ce l'ho tutte trascritte Ma scritte i testi o scritte anche in musica? I testi e qualcosa di musica pure Hai fatto gli spartiti insomma Hai scritto gli spartiti No ho diciamo messo il tipo di canto Cioè per il canto dei lavori Si usava questo tipo di musica Hai messo il cappello ad ogni tipo Quindi qui si viene usato i tre tipi di canti Per il lavoro, per il dopo lavoro e per... E vabbè ci stanno anche i canti I canti fatti di cronaca Ah Trapanarella Ah beh Perché parla di questa... Di questa donna Che era figlia di... E ci stanno ancora i discendenti Che fece? Se ne scappò con il guarzone La fuitina La fuitina E però... Dice... Cioè cercò di... Nella sua sfuga Cerco di arraffare quanto più poteva Che Conor spigliava che era Musina di Faulciano Che era la madre Faulciano e Falciano qua vicino Falciano Sistemi più vicini Se portava poco e cucina Cioè racconta tutto il fatto... Questo fa capire che la musica popolare non si può improvvisare No E infatti per questo è musica colta Che hanno cercato di distruggere dopo il 1860 Volendo la trasformare in folclore in musica folcloristica Sì va bene Ma... Non ha niente... Anche perché io ho detto... E che ne santo danno Ne parlai pure con Carlo E lui fu d'accordo con me Perché sono arrivato a questa conclusione La musica popolare fa parte della civiltà popolare La civiltà popolare vuol dire che aveva il suo mondo, i suoi codici Aveva i suoi mondi Questa è una mia composizione La civiltà popolare, la cultura popolare ha i suoi codici, ha il suo mondo, ha le sue regole Dove il popolo decideva chi cantava, chi ballava e chi suonava E quindi era una civiltà che era nemico della borghesia nascente Molto aristocratico che andava bene con i nobili e col sangue blu Ma la borghesia non poteva sopportare un popolo non addomesticato No assolutamente E quindi Pulcinella doveva morire Allora non potevano distruggere la civiltà, la cultura popolare La trasformare in folcloristica Dove tutti potevano scimmiottare quello che fanno a Canzonissima Però alla fine... Si Sta qui E voi il grande vostro merito Aver ripreso e avete dato la dignità Vostro, tu e tanti altri Principalmente di De Simone Assolutamente Gadangio e tutto il resto NNCC E quindi avete avuto il merito L'azione poi di questi grandi E che non si sono fermati a queste diciamo Riesumazioni Si l'hanno poi Ha notato Hanno fatto tradizione L'identità e quelle che i contadini cantavano Tu e quello che labbra diventa tradizione E infatti la cosa importante E che è stato riscoperto L'aristocrazia di un popolo Che era stato ridicolizzato dalla borghesia E invece se tu ci fai caso Andrea Se tu ci fai caso le tarandelle prima del 1860 E le tarandelle dopo il 1860 Fino al 1860 le sentivi a San Carlo modificate e trasformate Dopo il 1860 diventano folcloristiche Pure i balli, le danze, scimmiottavano tutto quello E quindi però voi avete questa fortuna Cioè noi abbiamo avuto la fortuna di aver avuto voi Che avete ripreso queste cose In mezzo In mezzo alla terra In mezzo alla campagna Quindi ti possiamo posso anche dire Se un canta storico I canta storico dei contadini Si C'è anche da dire un'altra cosa Che fino al 1860 E' uno spartiacque Andrea E i canti popolari non venivano mai cantati in casa o al chiuso Ma venivano cantati in piazza Venivano cantati C'erano delle regole Dei codici E di cui nessuno poteva fare In mezzo al 1860 si richiude nei salotti borghesi E diventa folcloristica E diventa folcloristica E poi diventa tutte Poi che cosa fa la borghesia? Si inventa le bande musicali Quindi il popolo deve abbandonare la cultura popolare Perché deve essere schiavizzato da lui culturalmente E va educato con la musica Non con la musica del San Carlo Ma con la musica bandistica che somiglia Però lo sfogliamo dalla sua entità Entità ed identità E infatti la musica bandistica non è come E poi tu vedevi poi il giorno dopo Favamo fin da sentire Poi tra l'altro Giuseppe Vecchi Sembra la stessa cosa Ma non certamente Paesillo Cimarosa eccetera eccetera E' stata tutta studiata a tavolino questa cosa Ma è fallita Ci sta un canto Che volevo farti sentire Che appena la sento dice Ma questa è Fenestre che lucivi E invece non è quella lì E invece non è quella lì Non è quella lì Rimanente nella mia Guità cerata Tu quando virai a te su questa luce, allora segna che vuoi fare la pace. Ma dà una ninno mia faccima pace, quando la c'erco a me da la luce, quando la c'erco a me da la luce, quando la stoppa a me da bamba pace. Quando la stoppa a me da bamba pace, quando l'inferno a me da la luce, quando l'inferno a me da la luce, nella mia faccima pace. Questa è sempre un'ottava, che viene cantata in un altro modo, insomma. Ma questa non mi ricorda, questa mi ricorda Fenestra Vascia. Fenestra che lucine, è diverso. No, però mi ricordava... E no, dico però... E questa che epoca è? È diverso. Non la sai che epoca? Veniva tramandata pure questa? No, questa qui... No, come fai a stabilire? Perché non ci stanno... Trascrizioni. Trascrizioni. Quindi il tuo merito è stato anche aver messo su... Inchiosto su carta a quello che prima veniva solo tramandato, quindi adesso ci abbiamo anche... Sì, sì. Perché non è cosa da poco. Ho raccolto quella che è la vera poesia, poi queste ottave sono la vera poesia popolare, ne ho raccolto 150. Ma in un testo? Sì, penserò di darlo alla stampa quanto prima. Proprio per fare in modo che... Eh, ma fai in fretta però. Perché qua è stato un vaglione che vanno a trovare, anche che ha cominciato a me. Senta, ma mettiamo un po' d'ordine perché ci perdiamo facilmente quando hai una biblioteca umana come la tua dal punto di vista patrimonio culturale che hai tu, è impressionante. Quindi tu cominci a fare la scherzione, ma poi cominciai anche ad esibirti. Sì, con Eugenio ci trovammo poi... Cioè il tuo rapporto inizia con l'NCCP o con Eugenio? Con l'NCCP... Tramite Eugenio? Proprio con... Quando parliamo di Eugenio, parliamo di Eugenio Bennato, è bello, è meglio dirlo. In Ennanè inizio. E Eugenio stava ancora nella nuova compagnia, allora. Ma tu ti seguivi per fatti tuoi così? No, no, no. Tu facevi solo ricercatore? No, ricercatore aveva un gruppo... Eh, quello dicevo. La pudica. La pudica. Te ne faccio vedere una raccolta di canti che abbiamo. è un gruppo che, diciamo, eravamo a Firenze ai tempi dell'università, quindi facevamo anche spettacoli e abbiamo fatto questo nastro, diciamo. e abbiamo obbligato questo. E qui conosci Eugenio Eugenio? Eh, vabbè, sì. Poi ho conosciuto prima Peppe Barra, da Peppe Barra e Roberto Di Simone, poi Eugenio. Quindi parliamo di primi anni 70? Eh, sì, il 79, il 76, il 76. È proprio il momento prima che si scioglissero? Eh, sì, no, quando si è sciolto? Nell'80, il 76. No, nel CCP, il 75, il 76, dopo la cattacenerendo alla seconda, si è sciolto. Sì. Quindi l'hai conosciuto un attimo un attimo prima? Sì, 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 prima, prima, prima. Infatti, 11 mese e 29 giorni dove ci stavo il canto che gli avevo passato io, è stato prima della cattacenerendo. E perché poi dopo la cattacenerendo, come tutte le cose grandi devono terminare, non possono rimanere in eterno. Sì, diciamo, con Eugenio facevamo delle escursioni, eccetera. E anche a Carpino, specialmente a Carpino, rimasi folgorato da questo parco. Insieme a Carlo D'Angio quindi? No, Carlo non c'è mai stato in queste escursioni. Che fai il tuo Eugenio faceva? Eh, io Eugenio e Giuseppe De Aco, un nostro amico. Vabbè, e comunque quello che suona, suonava il tamburello pugliese nella pizzica. Sì, ma qui parliamo ancora di NCCP però. O comincia in musica nuova? No, 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 già è iniziato musica nuova. E tu hai iniziato da subito a suonare? Che cosa hai fatto? No, 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 il primo disco partecipò questo Giuseppe De Aco suonando il tamburello. Caro D'Angio? Garofano d'amore. Eh. E il secondo disco invece... Non era Pizzica Minore? Allora, io sono intervenuto... Sì, Pizzica Minore. Io sono intervenuto nel terzo disco, quando D'Angio nasce. Perché nasce prima Pizzica Minore e poi Garofano d'Amore. E poi quando... Ma c'era pure Teresa De Sica o mi sbaglio? C'era ancora Teresa De Sica, sì. Io e Teresa siamo andati via quasi insieme. Lei un po' prima, poi io. Grande voce musica popolare Teresa. Eh, ma c'erano grandissimi suonatori tipo Churchill, Bob Fix. E tu che cosa hai? Quindi tu in quale disco hai? Allora, io iniziai con Eugenio come ricercatore, eccetera. E poi Eugenio mi chiese di partecipare a questo... Come cantante o come musicante? Come cantore? Come musicista, come cantante e come musicista. E infatti ho partecipato al... Quando tornavo a nascere, prima facemmo le villanelle del... Quel famoso... Quel famoso lavoro. Eh, che è un capolavoro quello. Perché ci sta davvero lo spirito della villanella. Lo spirito... Si chiama proprio villanelle del... Del... Del 500 napoletano. Eh, con Eugenio partecipai a quel disco là. E là è stata... È stata... Inserita anche una tamurriata. Non so se te la ricordi. Qua. Nennaro due giardini. Dopo Boccuccia da Nubierse... Le due. Proprio per dimostrare la continuità di immagini tra il mondo classico, il mondo del 500, 600 e ancora il mondo attuale. Perché erano ancora attuali. E sono molto più attuali quelle che quello che fanno adesso. E questo testo è un testo a doppio senso, chiaramente, che sta lì dentro. Vabbè. E dice Nennaro due giardini ci sono stato. Pizzo per pizzo ci è giù camminato. Ma giù mangiato perso che c'era. Secondo l'appetite che ha giù. Questo è un canto a dispetto. Perché poi nella musica popolare ci stanno le canzoni d'amore. Ci stanno i canti a dispetto. Cioè i canti... Adrash Foton? No. Per far dispetto alla fidanzata che uno ha lasciato o al partner che ha lasciato. E poi ci stanno pure canti di invidia, di gelosia. Cioè tutto quello che è l'animo umano poi viene trasmesso attraverso i canti. Trasformato in canti e trasmesso a... Esatto. Esatto. Quindi è una forma di comunicazione molto forte. Molto forte. E' diretta soprattutto. E' diretta. E' diretta. Villanelle del Cinquecento. Quando torniamo a nascere e Brigante Samora. Ah Brigante Samora c'eri pure tu. Si. Quindi il famoso Brigante Samora. Cioè quindi hai partecipato all'eredata della Priora e tutto. Esatto. E che cosa suonavi lì? No, l'abbattente e poi cantavo. Cantavi anche alcuni pezzi di Brigante Samora? Si si si. E ci sta un pezzo... Quale? Ci sta il pezzo mio. E' aggiungitato uno praticamente. E' stato nelle eredate... Nel... 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 Nel Brigante Samora. Nel Brigante Samora. Scusa. Eh si. Nel Brigante Samora. C'è stato pure un altro pezzo mio. Io ho fatto il testo e Eugenio ha fatto la musica. Eh... La... La... La Moresca. Non so se... Come no? Eh ma poi sai che sei un sorriso... Un insorgente. Quindi... A me comunque... Quei 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 quei... Quindi... In Brigante Samora. I due pezzi. Tu sei protagonista. Sono quali? La Moresca. Dove tu hai scritto il testo e Eugenio ha fatto la musica. Si. E l'altro? E l'altro è... Ehm... Primavera si chiama. Primavera. e dell'apri ora con tutte e due e là canti e suoni primavera l'abbiamo fatto solo strumentale perché c'è stata questa diatriba con la nuova compagnia quindi la fece soltanto strumentale però già l'avevo registrata anni prima con il gruppo che avevo a Firenze poi te lo faccio vedere così lo puoi fare e poi qui finisce la tua esperienza con musica nuova poi finisce la mia esperienza e c'era Carlo D'Angio ma secondo te Carlo D'Angio è la migliore espressione maschile della musica popolare che abbiamo mai sentito da palcoscenico anche Carlo come posso dire la musica popolare in Carlo non deve apparire non deve e ce l'aveva proprio insito in lui cioè con la voce così ma non tanto la voce sì anche la voce perché guarda io ho sempre notato questo nella musica popolare che il cantore cerca di spingere la sua voce proprio all'estremo della tonalità fin quando non ce la fa più tipo urlatore tipo urlatore nella musica popolare non si sussurrono mai le canzoni anche perché i canti poi devono essere sentiti da tutti quanti anche perché aiutavano anche a lavorare le persone che stavano più lontano da lui quel seminale a 300 metri doveva sentirli e quindi Carlo secondo te è la voce migliore la migliore voce maschile sì e Teresa De Sio ci arriva a Faustavetere o perché Teresa De Sio pure è una grande voce popolare no no ma da alla fine stiamo parlando di due giganti secondo me Faustavetere è la numero uno nessuna come lei però forse Teresa De Sio è un gradino più sotto o mi sbaglio no e perché? no vabbè hanno delle particolarità tutte e due non posso dire uno è meglio no non ho detto uno è meglio ho detto un gradino sotto no no però se tu mi dici un gradino sotto vuol dire che mi fai fare un paragone sono due giganti ma gli altri il resto è contorno sì hanno particolarità diverse per cui sono adatte a fare alcuni canti di canzoni però non hanno lo spirito popolare hanno la tecnica hanno la tecnica ma non lo spirito popolare la tecnica sì però io tecnicamente comunque non ho sentito a nessuno come loro no certo certo e poi l'esperienza chiusa con... ma tu pure con Giovanni Perilli hai suonato Giovanni Perilli suono con Eugenio ma tu non c'eri più? non mi ricordo se per un pezzettino forse siamo stati insieme vi siete date la transizione sì insomma e poi dopo è finita la tua esperienza musicale quindi è andata... la tua vita come è andata a finire poi? no vabbè diciamo che ho coltivato sempre queste cose qua però non... come... cioè si trattava a un certo punto di fare una scelta di vita di vita la scelta di vita era la famiglia o le tourne? sì perché la vita da artista è pesante è una scelta di vita anche perché credo che alla fine ai vertici che avevi raggiunto ci campavi pure bene con la vita artistica soltanto che era... sì diciamo di sì però non riuscivo a soddisfare quelle che erano le mie... che non si vive di solo pane sì volevi mettere... volevi essere... ti volevi stanziare ma poi i miei nonni, i miei nonni, i miei bisnonni eccetera hanno sempre lavorato nel campo dell'edilizia e io da piccolino mi sono sempre appassionato a questo campo per cui ho scelto di fare l'architetto e mi sono diciamo in qualche modo appassionato diciamo che a un certo punto hai deciso che era finito il tempo da pazziare avevi cominciato a faticare no, non è stato uno scherzo perché... è impegnativo se no non stavi a suonare con l'NCCP e con musica nuova se non avevi... sì, sì, sì è impegnativo soprattutto per formarti una famiglia sì, sì, no, per quello assolutamente soprattutto per quello... quindi diciamo che tutti gli anni 70 insomma iniziate fino ai 60 ma gli anni 70 proprio perché poi l'avete dato l'apriore è uscito nel 79-80 quella fase lì è finita quindi il decennio di fuoco che abbinavi al tuo modo di... al tuo essere studente insomma ti faccio sentire un canto che raccogliamo con Eugenio Carpino è una... è una serenata che primavera l'apriore Mettete Vieni da un po' gorgigori di chi andi vorrei ma dimmi dov'avvi sei ma dimmi dov'avvi sti mai chissà amore ma dimmi dov'avvi sti mai chissà amore non avvisi tu, valigatevi, valigatevi, la vita tua passa, la vita tua passa, e ora vedo di me, sono t ничего, devi ruppare, se ti non vuoi lasciare, se tu non vuoi lasciare, Abbandoni in braccia, tu vai su tuoi e ti perdoni ti, chiam l'ucave città città. Soprili di guagliuno che riesce a nascosti, sopri di guagliuno che riesce a nascosti. All'assa che sa storia che è fatta vecchia già, all'assa che sa storia che è fatta vecchia già. Ai aggiunge che sono giù si finisce il suo fornato omini durati che vina fliccia dolore. Ci venda di mentieri, saccaldè dalle bicchiera, in l'aria si lega a tutto il tempo che è morto. Per ricchi gli amanti che si compri la guaglione, vole e vola, non è già preso in tira vola. E' un esempio bellissimo questo decanto, che c'è questo sballottolamento continuo tra minore e maggiore. E' proprio molto bello questo decanto qui. E che ti devo dire, Andrei non pensavo che fossi così grande, te lo dico con molta sincerità, guarda. E' stata, adesso andiamo verso il termine, è stata un'ora, un'ora e dieci, magnifica. No, io non me ne so proprio. Ti è piaciuto come abbiamo impostato questa chiacchieraria. Sì, 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 no, no, va benissimo. A me ancora tantissime cose da dire. Dimmi un lavoro adesso, un aneddoto, un aneddoto quando stavi umano, quando andavi con sti contadini a ripiegarsi qualcosa di disfiziosa. Ce n'è, però dovrei farti sentire la registrazione, c'era al Palazzo Ducale, allora il Palazzo Ducale non era ancora del comune, però era di gente privata che abitava lì. Che duca c'era qui? Duca Grillo, dopo gli Statela, diciamo che c'è stata la dinastia di Grillo che era, diciamo siamo nel 1680, 1860, scusa, 1860 circa agli inizi degli anni dell'unità d'Italia, dai. Prima, ancora prima venne questo duca di Genova che comprò il territorio dal re e quindi incominciò la costruzione del palazzo dove già c'era una costruzione precedente con la torre di guardia vicino. E ci stavano, diventò privato poi perché... Sì. E niente, ci stava questa vecchietta di oltre 90 anni, 92 anni, che quando ci penso mi viene ancora la tenerezza per come raccontava le cose, per come... l'accoglienza che mi fece. E queste sono cose che non si dimenticano assolutamente. E belle cose, sì. Vuol dire che hai lasciato... hai fatto tanto per la tua Mondragone, insomma, tu ti senti molto legato a Mondragone. Sì, mi sento molto legato e non capisco chi dice che a Mondragone non c'è vita, non c'è assolutamente niente, vogliono scappare da Mondragone. Io penso che in qualsiasi posto del mondo si vada, è tutta questione di interessi che uno può, diciamo, ricavare dal proprio animo. Cioè, se tu trovi interesse per una cosa, allora qualsiasi posto va bene. Anche se lontano c'è 100 miglia. E questo è quello che... Ma io da Mondragone la trovo... poi vedo poi certe volte quando mi devo spostare per lavoro da Mondragone verso la zona di Sparanisi, Pignataro... Quindi ancora territori coltivati, gente che lavora duramente, gente che veramente coltiva i campi. Forse l'unica cosa è che non si trovano più condadini che cantano per strada, quello nei campi, quello sì, quello si è perso. Anche perché poi il borghesismo ha cercato pure di rendere, di umiliare le persone dicendole no, non da trappani, chi canta nei campi, mentre invece... Ecco perché c'è stata questa brutta cosa del modernismo contro la cultura e la civiltà popolare che è molto aristocratica. Però grazie a voi, grazie anche agli emigranti, pure lo stesso Augusto Ferraiolo mi ha detto che andando a fare delle ricerche d'antropologo in America trovava le nostre tradizioni lì. Non dimentichiamo che molte di queste tradizioni sono date via con gli emigranti. Sì, sì. Quindi la tua opera, caro Andrea, è stata un'opera gigantesca, enorme, monumentale. Quanti brani tu pensi di aver recuperato? 150 mi hai detto, quelle che vuoi pubblicare. Sì, sì. E non sono pochi, eh? Non sono pochi, assolutamente. Pensando che già la cultura contadina è stata scomparendo. E certo, ma tu riesci a trascrivere una lingua mondragonese? Sì. Perché non è semplice, perché la nostra... Non è semplice. Non è dialettica, la nostra è lingua laboria, noi siamo figli dei braci di Cassinesi, quindi è una lingua colpa la nostra, è molto difficile da scrivere. È difficile ma anche perché ci stanno moltissime parole che non si pronunciano però si scrivono. Ad esempio la A, la E, la I, non solo a fine parola, ma anche nel mezzo alla parola. E quindi la preoccupazione mia è quella lì anche di far comprendere agli altri che cosa sto scrivendo. Perché se chi legge poi pronuncia la E o la I o la O, la parola viene stroffiata. Mi permette di darti un consiglio, la presunzione? Scusa, pensavo di strutturare questa raccolta mettendo la traduzione in italiano. Posso invece, per mettermi la presunzione di darti un consiglio, scriverla così com'è e poi la reciti facendo l'audiobook per ogni pezzo. Ah, no, pensavo un'altra cosa. Sì, scriverla come deve essere scritta. E però recitarla come va recitata. No, volevo abbinarci un disco. Sì, vabbè, quello è normale. Con i vari moduli e quindi la pronuncia si sente dal disco. Sì, sì, per carità. O questa, cioè orale, la scritta che va all'orale. Sì. Ma comunque l'importante è che lo fai, Andrea, il prima possibile. Ma lo stanno dicendo anche mia figlia. Che diamine. Tua figlia ha una voce meravigliosa. Tua figlia ha conservato del popolare. Ce l'ha qualcosa di popolare dentro? Sì. Non fare il papà critico, fai il papà onesto. Perché molto volte si tende ad essere esagerato. C'ha qualcosa... Antonia è una bambina, una bambina... Una bambina, una volta, una creatura, una volta. Una donna che è stata abituata dalla culla a sentire i canti popolari. Cioè io gli cantavo, quando era piccolino, le nindaranne di Mondragone. Ancora oggi... Ce l'ha lei quindi? Sì, sì, sì. Ancora oggi a mia nipote, ho avuto una nipotina, adesso c'è cinque mesi... Auguroni! Grazie. Il figlio di Antonia. E quando sto con lei gli canto le nindaranne di Mondragone. Ma senti, dimmi una cosa, ma eri in famiglia, con tua figlia parlavate Mondragonese solo cantando, oppure nelle conversazioni leggele? Purtroppo sta scomparendo il Mondragonese. In questo è anche colpa vostra, però, che non lo parlate più. In questo è anche colpa nostra, però ci rapportiamo con un mondo che considera il dialetto come... Eh, ma non è un dialetto questo, questo è una lingua, questa è una lingua madre. Sì, sì, sì. Per esempio a Napoli, ancora per fortuna, parlano in italiano quando stanno insieme, però in famiglia parlano napoletano. No, ma in famiglia non si parla napoletano. Ma voi, quindi, tra voi, soltanto il Mondragonese lo comunicate solo quando cantate? No, 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 pure in famiglia lo usiamo. Perché poi sono... perché poi un popolo tu lo riconosce, come mangia e come parla. Noi quando parliamo cantiamo, no? È vero, è vero. E niente, Andrea, mi devi rilasciare con un canto Mondragonese. Ci devi lasciare con un canto Mondragonese. A tua fantasia e chiudiamo qui perché non ci siamo accorti ma abbiamo superato l'ora. È uno stato uno spettacolo. Mondragonese, che ti posso... Allora, ti faccio questa nina nanna, dai. È una nina nanna. Mi ha letto nel pensiero. Mi sembra che abbia fatto pure... Concetta Barra, tra il disco di cui ti parlavo, E poi ci chiamiamo, diciamo. Quando Sant'Anna ai furti c'è il lievo Che in ave gloria e Dio Ma vincun io Un giorno alzai gli occhi, a un arporello, vedi una uccella far un'idolo, vedi una uccella far un'idolo, vedi una uccella far un'idolo, il che soppurà noi la posso fare. Un giorno alzai gli occhi, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.